E' una buona nazionale questa Italia, quindi abbiamo Buffon tra i pali, potrebbe starci tranquillamente. Abbiamo Donna Roma, immagino, poi Sirico, Cranio, Everett, poi abbiamo Florenzi a destra, Bonucci, Chiellini a sinistra, l'altro centrale mi sfugge, poi abbiamo Verratti, Insigne, Pellegrini e Locatelli, il duo di punta, Immobile e Insigne, Donnarumma tra i pali, Florenzi a destra, Chiellini a sinistra, Bonucci in mezzo, l'altro centrale difensivo mi devo concentrare, a Cerbi magari, ma non credo, a Cerbi sì, poi Verratti, Locatelli, Verratti, Locatelli, Pellegrini, 4-3-3 sì, poi Verratti, Immobile, Insigne, e poi abbiamo il centrale difensivo, non so se a Cerbi. Nazionale, settimo minuto, 0-0 ancora imparziale. Daniele Fortuno. Un'idea, cercare di attaccare la difesa dell'Irlanda del Nord con il lancio lungo per sorprenderla da dietro, alle spalle lancio troppo profondo di Bonucci, ma ripeto, ottima idea, bisognerà avere pazienza, lo ha detto a Roberto Mancini, ora abbraccia concerte davanti alla panchina, pochi spazi, e già si è visto in questi primi sette minuti di partita, e allora magari velocizzare la circolazione, del pallone, andare con il lancio lungo. Io, ventù, Palladona! Sicuramente, Leonardo Bonucci ha la possibilità del gioco lungo e del gioco corto, e cerca di farsi vedere proprio in questi fondamentali, lui che nella fase di impostazione, è uno dei difensori sicuramente più performanti del nostro campionato. Intanto, ancora Verratti, molto attivo sulla destra a Florenzi, è andato immediatamente ad attaccare l'auto di competenza su di lui, però assai bene. Dovevo dire, a chiudere Nevis, poi subisce fallo, uno giocatore dell'Irlanda Lillard, proprio al ridosso della sua panchina, si trattava, se no, di Averratti, del... Anche di Irratti! ...e motivo per cui l'arbitro per malaziale comanda il calcio di punizione, in favore dei nostri amversari, sale addirittura a Pico Farrell, per occuparsi di questo calcio piazzando bene al di sale... Potrei viaggiare in treno, in aereo, gli aerei stanno al cielo! A più tardi, live su vannizzagnoli.it! Peppe Di Stefano, eh, non possiamo... Peppe! Uè uè!